Buonasera, il mio nome è Luca Piovano, chirurgo plastico in Roma. Io sono qui a questo congresso di medicina estetica portando un po' l'avvicinamento della chirurgia plastica versus la medicina estetica. Abbiamo tanti trattamenti che sono supportati da molti device che sono in commercio, tipo i fili di trazione, i filler avanzati, che ci aiutano a ottenere qualche cosina in più nel campo della medicina estetica. Anche i pazienti sono ben aperti a questi trattamenti perché riducono il downtime di un intervento chirurgico, tipo un lifting cervico-facciale, le complicanze e i costi visto il momento di crisi. Quindi oggi il mio intervento è stato incentrato sull'utilizzo combinato dei fili di trazione riassorbibili, se vogliamo fare i nomi commerciali Silhouette Soft sono dei fili che sono prodotti in America, sono molto utilizzati al giorno d'oggi, che permettono un riposizionamento dei tessuti verso l'alto e nello stesso tempo una stimolazione del tessuto a ringiovenirsi creando una sorta di neoproduzione di collagene. Questo viene molto spesso abbinato a trattamenti di filler, ovvero di stimolazione con filler avanzati a base di pollica prolattone ad esempio, che è un filler long lasting, ovvero dà dei risultati a lungo termine in termini di stimolazione sotto cutanea e quindi anche un miglioramento della surface cutanea. Con questi interventi combinati non riusciamo a recuperare molto bene l'ovale del viso, i contorni ed anche i volumi. Questo io penso sia un po' anche il futuro della medicina estetica e oggi ne abbiamo discusso, l'aula era molto piena, è stato molto seguito e apprezzato dagli discenti.